Da Cavallo a Fenice, Araba, quella che rinasce dalle sue ceneri. Anche lo spaccio nella famigerata struttura in via di demolizione, il ferro di Cavallo, a Pescara rinasce ma un po' più in là, una sorta di succursale già operativa e che ora è stata promossa a sede principale. Tutto intorno, degrado, immondizia, cattivi odori e ben precisi punti di ritrovo dell'illecito, la casetta dell'acqua e i portici dell'Istituto Mantonè. A documentare il tutto, video alla mano, è il consigliere regionale Domenico Pettinari. Osservando le immagini, che non mostriamo per non innescare ritorsioni sugli inquilini onesti, Pettinari ha ipotizzato un mercato dello spaccio piuttosto fiorente, fino a 70-80 le persone che, ogni una o due ore, arrivano qui per scambiare soldi con droga, per un giro di 3-4 mila euro ogni 60 minuti. E che questo sia proprio un mondo a parte, lo si evince anche dal fuori programma di oggi, quando la Municipale ha intimato l'Alt ad un calesse, che però ha tirato dritto per la sua strada. I cittadini onesti della zona non ce la fanno più, perché sono costretti a vivere tra atti anche di violenza, tra spaccio continuo, occupazioni abusive, atti illeciti, musica ad alto volume, nelle ore del giorno e della notte, anche a tardissima notte, qui c'è un via vai di persone, nella vicina via Tiburtina, anche i cittadini non ce la fanno più, ci sono degli anfratti, ma anche a fianco all'ex ferro di cavallo. I cittadini ci denunciano che ci sono zone completamente invase da siringhe, prostitute, i palazzi, quelli che abbiamo denominato qui vicino i palazzi, gli edifici, gli scheletri, i palazzi del buco, lì le persone vanno ad acquistare droga in queste piazze di spaccio, e poi vanno all'interno dove ci sono accampamenti, dove si drogano, ci sono siringhe dappertutto, fazzoletti sporchi di sangue, è davvero pazzesco. Allora io dico, noi la ricetta ce l'abbiamo in tasca, non si abbattono le strutture pubbliche, le strutture pubbliche si ristrutturano, qui cosa c'è bisogno? C'è bisogno immediatamente di una grande opera di bonifica, rispetto dalla legge regionale 96-96, di un'unità fissa H24 dell'operazione strade sicure, due militari e un poliziotto, due militari e un carabinieri, in queste che sono le grandi piazze di spaccio della nostra regione Abruzzo, e soprattutto censire tutti coloro che non hanno diritto, devono essere sfrattati dalle case popolari, inserire, riassegnare immediatamente le persone oneste che hanno diritto. Se non si fa questo, tutto il resto è spot, spot politico, spot pubblicitario. Quello che succede lì sotto, non so come spiegarvelo, perché è proprio indescrivibile, io sono della zona dall'età di 7 anni, cioè io non ho mai visto una situazione del genere, mai visto. C'è lo spaccio, diciamo c'è sempre stato in questa zona, ma tutti questi ragazzi per strada che proprio stanno male, si vedono perché comunque sono disagiati, fanno delle cose strane, si buttano in mezzo alla strada proprio sulla nazionale che ha il rischio di poter pure andare sotto qualche macchina. Io onestamente sto pensando pure di andarmene da qui perché non... Tutto questo tra l'altro vicino ad una scuola dove il giorno dopo, comunque adesso, a parte adesso che sta... Sotto la scuola, proprio sotto la scuola. Io vedo molte volte, ma raramente, vengono quelli dell'attiva a pulire la mattina presto, io esco alle 5 per andare a lavorare, ma la notte molte volte non riesco a dormire per le urla, le strille, perché comunque sono persone che con la testa sono proprio fuori.